Ecco le squadre. Le squadre che fanno loro ingresso in campo, le maglie non si possono confondere perché Brescia ha la maglia azzurra con la V davanti, Cittadella ha la maglia Granata. Purtroppo le fermazioni non sono arrivate e quindi non ve le posso dare, dobbiamo seguire la partita. Grazie. La Cittadella ha scelto il campo, quindi il Brescia. Giocherà la palla. Sì, riesco anche a... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.